Maxi, sequestro di droga nell'Aretino, guardie di finanza e polizia stradale di Arezzo sotto sezione di battifolle, hanno intercettato in A1 un corriere della droga che trasportava quattro quintali e mezzo di cocaina. Ad insospettire gli agenti è stato l'andamento a zigzag del furgone lungo la A1. È scattato dunque il controllo alla guida un cittadino albanese di 38 anni residente a Firenze. Il controllo si è esteso al vano di carico che apparentemente era colmo di attrezzi da muratore. Una volta rimossi il pianale è risultato letteralmente ricoperto di panette di cocaina purissima ben 400 per un peso lordo di 476 chilogrammi. Sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 45 milioni di euro. L'uomo è stato arrestato.